Dottoressa Cattani, si sta aprendo una nuova stagione per le ferrovie dismesse? Sicuramente sì, nel piano industriale di ferrovie dello Stato italiano, che è un piano decennale presentato l'anno scorso, c'è un pillar, un pilastro dedicato al riuso sociale del patrimonio dismesso, che è ingente, e c'è quindi una volontà di metterlo a disposizione delle amministrazioni locali, dei cittadini, attraverso le amministrazioni locali e associazioni riconosciute, importanti, per che se ne possa fare un riuso sociale. Quindi ritengo che sia l'inizio di una nuova stagione di colloquio tra il gruppo Ferrovie e le amministrazioni interessate per promuovere progetti a favore del territorio.